Ciao a tutti amici, veniamo subito con questo unboxing della spesa di oggi e dopo vi dirò anche i prezzi Uè, io ho risparmiato 20 dollari, eh Allora, acqua gasata in lattina Lo dico dopo Allora, olio di corn, di mais Olio di mais Siccome c'è un offertone a due al prezzo di uno praticamente è 4 dollari tutti e due e qua c'è un offertonissima Poi ho preso questo qui, Bertolli extravergine d'oliva c'era anche qua l'offertone a due al prezzo dell'uno ed era 7 dollari e 59 per tutti e due E ora così Tac Poi Birra Heineken 6 dollari e 24 Il formato gigante Poi Pinoli Per la mia ricetta Pasta con i pinoli all'aceto balsamico e bottarga A bottarga Non lo so Quattro dollari Mi pare Poi Pepe Popo Pomodori Mirtilli Gelato al mirtillo che farò dopo Basilico per la mia rivisitazione vellutata Poi Cioccolata Torta di cioccolata con noci Che una fetta sono 390 calorie Un ottavo Magicissima Non ho resistito Poi abbiamo del sushi Ah mi sono dimenticato di che prezzi Allora questa qua mi pare 7 dollari e 5 Basilico 1 dollari e 99 Mirtilli Blackberry Chiamati 3 dollari e 29 E mi sono sorpreso perché Io al solito questi costano molto di più Pomodorini qui Tometto 3 dollari e 99 Poi ho preso una new entry Italian gorgonzola Guarda che bella Import Imported Importata Non dice da dove Comunque questa Non l'avevo mai Non l'avevo mai vista Allora l'ho presa 5 dollari e 99 Te dico solo questo I sushi costano 6 dollari e 99 Però uno dice Ma la 5 dollari e 99 Poi compri i sushi 6 dollari e 99 Questi li mangi una serata Questo magari dura 3-4 giorni Quindi costa meno l'agroonzola dei sushi Poi ho preso la pasta per fare la pizza 2 dollari e 2 dollari e 64 Poi ho preso bocconcini e mozzarella per una mia ricetta Una variazione sulla fonduta Una variazione sul capriolo e la fonduta Poi provo a vedere Guarda queste qui costano di solito 3 dollari Latte Milk Allora Un litro di latte 946 millilitri Che sono equivalenti a un quarto di latte Costano Costa più o meno un dollaro Adesso non lo trovo Bertoli Bertoli Polio Polio Blackberry Eriven Bertoli Mozzarella Mozzarella era Vabbè c'è un'altra Altra mozzarella Questa qui Questa qui costa 4 dollari E 89 Poi c'è quest'altra qui Costa meno Questa qua costa 2 dollari Non lo so Half half che sarebbe la crema Che questa sarebbe per fare il gelato Costa 2 dollari E 65 Ecco 2 dollari e 65 Questo e questo 1 dollari e 74 E poi abbiamo Questo Il ginger Che questo costa Il prezzo non l'ho visto G Non lo so Non c'è Comunque questo è ginger giapponese Guarda Quello Arancione Fagicissimo E basta Questo è quanto Totale della spesa 85 dollari Che Durerà Mezza settimana Perché Ciuschi Ha una bocca così Mangia tutto E basta Questo è quanto Facciamo una panoramica Allora Permetti Tutti 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 Uuuun Tutti Grazie a tutti.